Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo webinar, il primo del 2020. Oggi sto registrando da fuori sede, sarò sempre più spesso fuori sede nei prossimi mesi, poi vi spiegheremo perché, insomma, invieremo una mail informativa di tutte le novità del 2020 a tutta la nostra community. Questa è la prima video-lezione, il primo webinar del 2020, la prima lezione di quattro del corso di Coding per creare videogiochi con Scratch. Questo corso è dedicato sia alla primaria che alla secondaria. E cominciamo con la nostra prima lezione. Eccoci, allora, riporto subito appunto due brevi estratti da questo libro, Imparare a programmare con Scratch. I due estratti riguardano appunto la metafora del teatro in Scratch e i mille ruoli del programmatore. Apriamo le slide per farvele vedere. Eccole qua. Allora, Scratch e la metafora del teatro. Ho già detto nell'introduzione, questa, diciamo, questo argomento della metafora del teatro lo avevo già affrontato in un webinar la scorsa estate, se non ricordo male, webinar, quelli sul coding nella primaria. Scratch è basato sulla metafora del teatro o del cinema. L'azione si svolge sul palcoscenico, che è lo stage, dove gli attori o i personaggi, i sprite, i cosiddetti sprite dentro Scratch, eseguono quanto è scritto nel loro copione, ovvero lo script. Per essere precisi, in Scratch uno sprite può avere più script, ma non preoccuparti, capirai presto il perché. Ogni script è composto da una serie di istruzioni impilate l'una sull'altra e ciascuna istruzione è costituita da un blocco, da un blocchetto colorato e questo lo sappiamo benissimo. Gli sprite, poi, ovvero i personaggi hanno un proprio guardaroba con uno o più costumi che possono indossare in corso d'opera. Chiaramente uno solo per volta. Anche lo stage, che è uno sprite un po' particolare, ha un proprio script dei propri sfondi e dei propri suoni abbinabili. Infatti, in Scratch, proprio come a teatro, c'è chi lavora dietro le quinte ed esegue durante lo spettacolo i compiti che gli sono assegnati, come manovrare le luci, cambiare la scenografia, far partire le musiche e i suoni di sottofondo. Quindi un progetto o un programma Scratch è l'insieme di tutto questo. E in basso vedete a piedi pagina, insomma, qual è la posizione di questa situazione all'interno del libro in Kindle, nel formato Kindle. Quindi, se scaricate l'anteprima da Amazon nel libro in formato Kindle, la trovate perché... Comunque, questo è nelle prime pagine, quindi lo trovate nell'anteprima Kindle di Amazon. L'altro estratto che vi voglio riportare è quello dei mille ruoli del programmatore Scratch, che è subito dopo. Come programmatore Scratch hai l'onore e l'onere di ricoprire molti ruoli. Innanzitutto sei l'autore, il regista e lo sceneggiatore. A te, quindi, il compito è di scrivere la sceneggiatura. Questo vuol dire decidere anche gli sfondi per le scenografie, e scrivere i copioni per gli attori e preparare le loro raccolte di costumi e suoni. In particolare, il tuo compito prevede di stabilire ciò che accade nelle varie situazioni. Per esempio, all'inizio devi dire chi c'è sulla scena, in quale posizione del palco si trova, eccetera, eccetera. Fatto questo, anzi, mentre stai ancora scrivendo la sceneggiatura, dovrai spesso indossare anche il cappellino del regista e provare qualche scena per vedere cosa accade effettivamente e se c'è qualcosa che non funziona, che devi modificare o correggere. Questo, però, non è un corso di cinema, per cui dovrai metterti spesso, ovviamente, il cappellino del programmatore vero e proprio, che analizza i problemi, e pensa alle soluzioni e scrive il codice per realizzarle. Aggiungo io realizzarle, ovviamente, in automatico, tramite, appunto, la programmazione. Allora, rispetto a questi due estratti, ci tengo a precisare due concetti. Il primo riguarda, appunto, la metafora del teatro. Cosa voglio precisare? Se ci sono vari attori che recitano simultaneamente, vi mostro su Scratch per capirlo meglio. Allora, ipotizziamo che gli attori all'interno del nostro teatro siano tre. Il gattino, lo scarafaggio e la farfalla. Ora li ho messi invisibili. Mostra, mostra e mostra. Ok, come vedete, ogni volta che seleziono uno dei personaggi, mi si aggiorna la parte dove si inserisce lo script per ciascuno sprite, per ciascun personaggio. Quindi, questo vuol dire che ogni personaggio ha il proprio script, ha il proprio codice. Quindi, dovete proprio pensare che ci sono vari attori che recitano simultaneamente e quindi hanno il proprio script e quindi significa che ci sono vari script, vari programmi eseguiti in parallelo. Uno per ciascun attore, se l'attore fa qualcosa. E c'è anche la possibilità di inserire, come abbiamo riportato anche nella citazione del libro, di inserire degli script, quindi delle istruzioni anche per lo sfondo. Che è lo sfondo, o meglio, per l'oggetto stage, per il palcoscenico. Per esempio, cambi uno sfondo, fai partire una musica di sottofondo, eccetera, eccetera. La seconda precisazione riguarda invece i mille ruoli del programmatore, ovvero quello che abbiamo detto in questa slide qui, riportando appunto l'estratto del libro. Se ci pensate bene, anche se non siete proprio dei videogiocatori e io non lo sono, diciamo, gli elementi multimediali di un videogioco sono molto importanti perché proprio si imprimono nella mente dell'utente, suoni, grafica, for... Addirittura, se ci pensate bene, la forma dei controller fisici, immaginate quando cercate di ricordare per chi di voi, diciamo, non è più un ragazzo come me, quando uno andava in sala giochi rimaneva, come dire, la prima attrazione era verso proprio la forma della cabina del videogioco, i controller che aveva, eccetera. Quindi elementi che sono ancora prima di iniziare a giocare, prima della struttura e del sistema di gioco. Quindi tutti gli elementi multimediali, suoni, immagini e appunto anche la forma dei controller sono molto potenti per attirare l'attenzione e quindi sono comunque elementi da tenere in considerazione nel momento in cui si cerca di fare un videogioco con Scratch, ok? E chiaramente durante, insomma, in base alla mia esperienza, durante molti laboratori che ho svolto, sia con studenti che con docenti, ho notato che proprio questo lavoro di artigianato, come possiamo dire, artigianato digitale multimediale è spesso un po' dispersivo, anche perché, come dire, gli strumenti di editing audio e grafico che Scratch ci mette a disposizione, per esempio, se scelgo il personaggio qui del Beatle, dello scarafaggio, e vado nell'editing, nell'editor audio, quindi dove posso importare dei campioni audio, fare un minimo di operazioni di editing, tipo mettere la sfumatura d'ingresso, sfumatura di uscita, o altre, o l'effetto robot, oppure lavorare un po' sulla parte grafica. Ok, Scratch ci mette a disposizione questi strumenti per fare un po' di editing multimediale, ma sappiamo anche che sono un po' limitati rispetto ad altri programmi, ad altre applicazioni che magari, insomma, usiamo anche su di smartphone, sui tablet, eccetera. E quindi a volte fare nello stesso momento, soprattutto la stessa persona, durante un laboratorio, durante un'attività, sia la parte di pianificazione, quindi di coding vero e proprio, dove creo un algoritmo con una serie di istruzioni, sia la parte di, come possiamo dire, manuale digitale, di artigianato, di creare dei suoni, di creare delle immagini, fare questo lavoro insieme spesso è un po' dispersivo, proprio perché si fanno due lavori o tre lavori diversi simultaneamente, e quindi è proprio interessante ed efficace ed efficiente il tentativo di dividere questo lavoro su più ruoli. E appunto qui ritorno alla slide, appunto, dei mille ruoli del programmatore, soprattutto se cercate di progettare un'attività con gli studenti, assegnare agli studenti, a diversi studenti o a diversi gruppetti di studenti, ruoli diversi. C'è chi fa il programmatore, quindi, come dire, quello che si occupa delle parti automatiche, chi fa l'autore della storia, chi magari fa un po' i testi, quindi la sceneggiatura, e chi fa un po' l'artigiano multimediale, si occupa della realizzazione delle grafiche, dei suoni, dei costumi, degli sfondi, eccetera. Questo è un consiglio che vi do, perché, se ci pensate bene, questa cosa viene totalmente alla differenza che c'è fra una rappresentazione lineare di una storia che può essere appunto una storia da rappresentare in teatro e il videogioco è solo nella parte, diciamo, interattiva. Cioè che il videogioco è una storia in qualche modo interattiva dove viene chiesto all'utente di intervenire e di fare qualcosa per arrivare a un determinato obiettivo all'interno comunque di una macro storia, di scenari già pronti. Quindi più o meno tutti questi elementi tecnici che ritroviamo nel teatro, nella metafora del teatro, sono utili anche per la realizzazione dei videogiochi. Proprio per questo, per, come dire, per limitare, per distinguere bene un po' tutti questi ruoli e per limitare la dispersività di questa video-lezione, vi mostrerò proprio passo passo la realizzazione di questo tutorial che vi mostro. Chiudiamo le slide. Di questo tutorial qui che è pubblicato sul sito Microninja, qui vedete l'indirizzo. E idee per un gioco scratch, la discesa sci, realizzeremo quest'oggi, poi via via, nelle prossime lezioni, questa è la prima di quattro lezioni, insomma faremo anche cose più complesse, però per partire tutti gli elementi di base li troveremo già in questo tutorial, realizzeremo questo semplice gioco dove abbiamo il nostro, uno sprite, che è il gattino che scia, che scenderà dalla discesa e dovrà evitare gli alberi, gli abeti che gli andranno incontro, dovrà, dovrà evitarli. Vi mostrerò passo passo la realizzazione di questo tutorial, perché come vedete, questo tutorial è stato fatto per Scratch 2, come vedete da questa schermata, mentre noi lavoreremo in Scratch 3, la versione più aggiornata, quindi vi mostrerò passo passo come realizzarlo su Scratch 3, e vedete che al di là del codice, cioè i blocchetti, c'è anche da fare proprio un po' di lavoro di artigianato multimediale, come l'ho chiamato prima, perché dobbiamo in qualche modo realizzare la pista, importare, cambiare alcuni colori, importare degli sprite, quindi delle immagini esterne alla libreria di base, che ovviamente il tutorial ci mette a disposizione, eccetera, eccetera. Ok, quindi lo guarderemo passo passo. Ok, cominciamo il nostro tutorial, la discesa sci. Allora, cosa farai? Questa risorsa, va bene, ti illustrerà come creare il gioco, ok, lo sappiamo. Il giocatore controlla lo sciatore usando i tasti freccia destra e freccia sinistra. Dovrà evitare gli ostacoli che gli vengono incontro per guadagnare punti. Quando lo sciatore viene colpito dall'ostacolo, da un ostacolo, cade e la partita finisce. Ok, queste un po' sono le regole del gioco che andremo a creare. Andiamo proprio a iniziare a creare il nostro personaggio e il nostro sfondo. Lo sciatore e la pista. Per prima cosa dobbiamo creare uno sprite, sciatore e uno sfondo che simuli una pista da sci. Abbiamo creato lo sprite per te e quindi lo puoi scaricare da qui, perché questo gattino, fatto in questa maniera, non c'è nella libreria di scratch e lo dobbiamo scaricare da qui. Quindi lo... Vado nei download, dove sono? Dov il nostro gatto con gli sci ok vediamo cosa dobbiamo fare poi per prima cosa l'abbiamo scaricato l'abbiamo importato aprire un nuovo progetto scratch lo abbiamo fatto creare un nuovo sprite lo abbiamo fatto selezionando il file lo abbiamo fatto e ci dovrebbe apparire così ok ora dobbiamo creare uno sfondo cerchiamo di capire perché a me è apparso un po' inclinato e qui invece vedete che è perpendicolare rispetto alla base dello schermo probabilmente perché è rimasto alcune informazioni di inclinazione precedente facciamolo ruotare un po' di 15 gradi ed eccolo qua ok adesso è perpendicolare al piano all'asse y del nostro schermo torniamo nel tutorial dobbiamo ora disegnare lo sfondo che simuli una pista da sci fare clic sull'icona disegna un nuovo sfondo e vediamo dov'è qui nell'oggetto stage cioè nel palcoscenico disegna un nuovo sfondo ok poi vediamo che cosa ci dice selezionare il colore grigio chiaro dalla palette dei colori con lo strumento riempi con colore e riempi lo sfondo di grigio ora qui è un po' cambiato rispetto in scratch 3 è un po' cambiato l'aspetto dello strumento diciamo grafico possiamo fare in questo modo intanto cancelliamo il vecchio sfondo in questo nuovo troviamo un disegniamo uno sfondo con un rettangolo poi con lo strumento seleziona lo selezioniamo e lo ingrandiamo in modo che copra perfettamente tutto il nostro spazio poi dobbiamo riempire appunto il nostro quadrato con il colore grigio scuro quindi apriamo qui il colore annulliamo la saturazione in modo da lavorare sulla scala di grigi scegliamo un grigio chiaro perlomeno così ok poi selezioniamo lo strumento riempimento andiamo sul nostro quadrato che diventa grigio chiaro poi cosa ci dice il tutorial che dobbiamo realizzare le linee ci dice di scegliere un grigio più scuro ma fortunatamente se scegliamo lo strumento linea abbiamo di default la possibilità di di avere il contorno nero quindi non abbiamo ora bisogno di scegliere un altro colore disegniamo lo strumento con le linee così la nostra pista ok diamo un nome allo sfondo pista da pista da sci lo avevo già messo comunque potete anche cambiarlo pista da sci modificato ok procediamo col nostro tutorial cosa ci dice quando il gioco inizia vogliamo che il gatto sia sempre in alto al centro dello schermo e guardi verso il basso vogliamo cioè che e dobbiamo inserire questi blocchetti qui torniamo su scratch questi due blocchetti quelli quelli blu sono i blocchetti movimento ecco come vedete qui quindi andiamo qua torniamo sul codice e cosa ci dice movimento non ci sono i blocchetti stage selezionato nessun blocco di movimento questo perché 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 come vedete abbiamo selezionato l'oggetto stage stiamo lavorando sugli sfondi del nostro stage del nostro palcoscenico e gli oggetti stage non si muovono quindi non prevedono i blocchetti movimento dobbiamo selezionare lo sprite che invece si muove del nostro gattino e scrivere quel codice che abbiamo visto prima partendo dalla bandierina verde che si trova in situazioni e poi due blocchetti movimento che sono vai alla xy e punta in direzione 90 vai alla xy eccolo qua che lì ci dice 0,100 e poi punta in direzione 90 eccolo qua quindi quando premo la bandierina verde il gatto va in questa posizione ok andiamo avanti cosa ci dice di salvare il nostro progetto chiaramente per sicurezza salviamo il nostro file facciamo salva sul tuo computer gli diamo un nome garantisci salva sovrascrivi ok procediamo i comandi per lo sciatore vogliamo che lo sciatore si possa spostare orizzontalmente a destra e a sinistra attraverso lo schermo e che un giocatore possa controllare questo movimento usando la freccia destra e la freccia sinistra della tastiera vogliamo inoltre che lo sciatore si rivolga verso la direzione in cui si sta spostando questo è interessante deve cioè dare l'impressione di inclinarsi a sinistra quando si sposta a sinistra e di inclinarsi a destra quando si sposta a destra iniziamo con il collegare il movimento a sinistra col tasto freccia sinistra quindi facciamo questo blocco qui vedete punta in direzione cambia quindi il grado da 90 a 105 e cambia anche la x che è praticamente la traslazione che fa sull'asse x sull'asse orizzontale il nostro gattino ogni volta che premiamo freccia sinistra quindi torniamo qui stiamo sempre lavorando mettendo linee di codice per lo sprite del gattino quindi situazioni freccia quando si preme il tasto freccia sinistra punta in direzione 105 cambia x di meno 10 torniamo ai blocchi movimento punta in direzione qui mettiamo 105 e poi abbiamo detto cambia x di meno 10 allora dov'è il cambia x eccolo qua cambia x di meno 10 ora proviamo se funziona io clicco la freccia sinistra e accade questo ok per riportarlo per riportare il nostro gattino alla posizione di partenza premo nuovamente la bandierina verde e poi di nuovo sentite il suono del tasto freccia sinistra ok andiamo avanti possiamo se vogliamo aggiungere i commenti cosa che è utile che consiglio soprattutto se poi userete diciamo questi codici se se in qualche modo li trasmetterete via mail o via altri canali ai vostri alunni perché chiaramente i codici aggiungono delle informazioni e spiegano un po' il perché si fanno determinate cose quindi possiamo aggiungerlo anche noi sposta lo sciatore verso il sinistra ok andiamo qui andiamo sul blocchetto che ci interessa facciamo tasto destro aggiungi del mouse aggiungi commento e scriviamo tra io scriverei traslazione verso sinistra dello sciatore ok e lo lasciamo qui salviamo di nuovo per sicurezza sempre gara di sci ok sostituire ok andiamo avanti le istruzioni per muovere lo sciatore verso destra saranno ovviamente analoghe cambia la direzione della x ovviamente da meno 10 diventa 10 e cambia l'oscillazione diciamo l'inclinazione rispetto al centro quindi prima avevamo fatto un più 15 gradi di oscillazione adesso faremo meno 15 gradi di di scusate di inclinazione e quindi verrà fuori 75 ok quindi torniamo qua facciamo duplica quindi riduplichiamo tutto il blocco freccia destra cambiamo cambiamo anche il nostro commento traslazione verso destra punta in direzione abbiamo detto 75 e anche la x cambia e passa a 10 ok vediamo ripartiamo col nostro gioco se premo la freccia sinistra fa così se premo la freccia destra fa in quest'altro modo ok procediamo con il nostro tutorial che lo sciatore si muova come previsto lo abbiamo già fatto ora creiamo un ostacolo che lo sciatore deve evitare l'ostacolo si muove dal basso verso l'alto e ti accorgerai che in questo modo creerà immediatamente un senso di movimento questo è interessante perché appunto ci permette anche di ragionare proprio dal punto di vista grafico di come si crea poi l'illusione del movimento in qualche modo c'è un oggetto che si muove su uno sfondo che rimane in qualche modo fisso o che si muove con una velocità diversa rispetto all'oggetto ok quindi l'albero che si muove creerà immediatamente un senso di movimento nel nostro gioco che invece adesso in questo momento ovviamente appare statico per prima cosa dobbiamo creare lo sprite per l'ostacolo scegli dalla libreria di scratch qualcosa che ti sembra adatto nel nostro esempio abbiamo scelto lo sprite 3.2 opportunamente ridimensionato con lo strumento riduci lo sprite andiamo a vedere perché in scratch 3 questo alberino preciso mi sembra che non ci sia comunque controlliamo andiamo qui facciamo scegli uno sprite dalla libreria scriviamo tree albero e vabbè invece dell'abete prenderemo questo boh chissà che albero sarà prendiamo lui lo ridimensioniamo ok mettiamolo al 40% forse qualcosa di più mettiamolo al 60% ok e quindi qui abbiamo inserito il nostro sprite e possiamo ridimensionarlo velocemente senza dover entrare nello strumento diciamo di editing del costume semplicemente agendo sulla dimensione cioè sulla scala che scala 100% è così come lo importiamo e via via possiamo fare possiamo scendere o possiamo salire quindi se avessi messo 200 avrebbe voluto dire 200 il doppio della sua dimensione originale ok diciamo che ci possiamo accontentare del 60% della sua dimensione originale vediamo cosa dobbiamo fare poi scriviamo ora le istruzioni per il suo movimento vogliamo che durante il gioco l'ostacolo entri nello schermo dal basso e si muova verticalmente verso l'alto quando raggiunge il bordo superiore sparisce e dopo un certo tempo un secondo nell'esempio rientra nello schermo dal basso ok quindi dovremo scrivere questo blocco di codice nel nostro scratch 3 ok come vedete anzi come vedete meglio da qua io ora se ritorno nel codice ho i blocchetti precedenti per quanto riguarda ah qui mi ha copiato lo stesso allora dovevo fare così rimuovi commento ok dovevo fare un nuovo commento qua traslazione verso destra dello sciatore ok e di qua verso sinistra bene perfetto come vedete questo codice è il codice del gattino ma se clicco sul personaggio sullo sprite albero il codice è ancora vuoto perché lo dobbiamo inserire copiandolo da qui quando si clicca banderina verde banderina verde la troviamo nelle situazioni eccola qua poi dobbiamo mettere un ciclo forever un ciclo per sempre che troviamo nelle strutture di controllo quindi nel menu controllo per sempre vai a x y 0 meno 180 blocchetti movimento vai a x y 0 meno 180 mostra che lo troviamo nel qui nel menu dei costumi che però i colori sono sono cambiati adesso eccolo qua aspetto mostra eccolo qui nel menu aspetto che è quello che riguarda diciamo un po' i costumi e l'aspetto dei nostri sprite dei nostri personaggi quindi mostra scivola in un secondo da x 0 a y 180 lo dobbiamo riprendere nel movimento però prima prendiamo il blocchetto nascondi dato che siamo già qui mettiamo qui sotto torniamo nel movimento prendiamo il blocco scivola in un secondo x 0 y 180 ok attendi un secondo il blocchetto attendi è in situazioni anzi no scusate nelle strutture di controllo in controllo eccolo qua attendi un secondo vediamo cosa accade eccolo lì il nostro oggetto ora si muove ora magari l'albero rispetto all'esempio qui facciamolo un pochino più piccolo mettiamolo al 50% ok vedete che già l'albero si muove ora nelle prossime più avanti dovremo ovviamente cercare di esprimere in codice un qualche tipo di condizione che faccia in modo che venga rilevato il contatto quindi il l'incidente tra il gattino tra lo sciatore e l'albero perché al momento possiamo dire che lo sciatore sia come un fantasma che passa attraverso l'albero o viceversa allora andiamo avanti esegui il programma per vedere se il gioco su scratch funziona l'abbiamo già visto saresti in grado di fare in modo che l'ostacolo sia diverso ogni volta che appare sullo schermo e cioè a ogni ciclo del loop cioè all'interno del blocchetto questo qui del blocchetto per sempre se per l'ostacolo hai scelto uno sprite che ha un solo costume dovrai scegliere un nuovo costume della libreria o crearne uno nuovo dovrai poi utilizzare il blocco passa al costume ok vabbè questa è una modifica che che ora al momento non faremo comunque insomma è chiaro che potendo cambiare l'aspetto del costume questo però è interessante per spiegarlo approfondirlo un attimo perché voi dovete pensare che noi stiamo facendo un gioco con due personaggi ma i due personaggi non sono il gatto e l'albero i due personaggi sono lo sprite 1 e lo sprite 2 che in questo caso in questo momento si mettono il costume di gatto e il costume di albero ok quindi significa che all'interno di questo ciclo infinito questo ciclo per sempre io potrei inserire anche il passaggio da un costume di albero come questo quello questo che vediamo a un altro tipo di albero teoricamente potremmo anche fare che una volta è un albero così un altro un abete un altro un albero che disegniamo noi oppure un altro tipo di ostacolo un palo della luce un palo della corrente eccetera eccetera ok quindi questo per capire appunto la differenza fra costume e personaggio ragionate sempre in base alla metafora del teatro ok quindi ritorniamo al nostro tutorial e procediamo dobbiamo fare un ostacolo in una posizione casuale avrai notato per il momento l'ostacolo appare sempre nella stessa posizione non è molto difficile evitarlo ovviamente facciamo ora in modo che nel videogioco che stiamo realizzando questo appaia ogni volta in una posizione differente in altre parole ciò significa che la posizione x dell'ostacolo dell'ostacolo deve essere scelta in modo casuale e l'ostacolo deve apparire in questa posizione e spostarsi verticalmente verso l'alto per farlo creeremo una variabile ostacolo x ok come si creano come si creano le variabili andando nel menu delle variabili che è questo che ora cambia ok per tutti gli sprite eccola qua poi che cosa mi dice dai il nome alla nuova variabile premi ok vogliamo che questa che nella nostra idea di gioco l'ostacolo appaia nella posizione ostacolo x il cui valore è scelto a caso lungo tutto lo schermo fra meno 200 e 200 e si sposti verso l'alto quindi ritorniamo nel blocco del secondo sprite cioè lo sprite che indossa il costume di albero e dovremo aggiungere questi blocchetti qua modificare i blocchetti di movimento quindi e aggiungere questo blocchetto qui questo arancione che fa sì che a ogni nuovo giro a ogni nuovo ciclo del programma la prima cosa che avviene è che la variabile ostacolo x alla variabile ostacolo x viene assegnato un valore a caso tra meno 200 e 200 ok vediamo come realizzarlo prendiamo dal menu variabili prendiamo il blocchetto porta la mia variabile selezioniamo con la tendina la variabile appena creata ostacolo x poi andiamo negli operatori matematici prendiamo il blocchetto questo qui numero a caso abbiamo detto tra meno 200 e più 200 meno 200 e 200 eccolo qui poi dobbiamo modificare via x ostacolo x y meno 180 quindi qui vedete devo mettere il nome della variabile come faccio torno in blocchetti variabili prendo questo blocchetto qui stondato e lo metto qua perché è una variabile ok e poi la stessa cosa faccio qua sotto al posto di 0 metto questo ok a questo punto se faccio partire il programma dovrei vedere che il dovrei vedere il movimento del nostro ostacolo ovvero dell'albero vediamo ok vedete a ogni passaggio la sua posizione è diversa ok se non voglio posso nascondere questa finestrina dove vedo l'aggiornamento della mia variabile ostacolo x la posso nascondere facendo tasto ah no scusatevi ora è cambiato in scratch 3 vado sempre nel menu variabili e tolgo la spunta a ostacolo x e mi scompare dall'interfaccia grafica stoppiamo andiamo avanti vediamo la caduta oh questa è la parte che a cui accennavo precedentemente dovremmo trovare adesso un modo di identificare l'impatto fra lo sciatore e l'ostacolo quindi quando lo sciatore viene colpito da un ostacolo cade e il gioco finisce se fai clic sullo sprite dello sciatore e selezioni l'etichetta costumi vedrai che ha un secondo costume che possiamo usare quando viene colpito da un ostacolo vogliamo dunque che quando lo sciatore viene colpito cambi costume e la partita finisca andiamo a vedere quando abbiamo importato il gattino andiamo nel costumi ah ecco vedete che c'è appunto un secondo costume da abbinare al primo sprite al primo personaggio cioè l'immagine dove c'è il gattino della caduta ok quindi questo elemento multimediale l'abbiamo già importato ora dobbiamo capire come farlo come farlo attivare come farlo venire fuori durante il nostro codice e vediamo che cosa ci dice questi tre blocchetti li abbiamo già realizzati dobbiamo realizzare questo nuovo blocco che si realizza sempre con la bandierina come vedete tutti questi blocchi della bandierina verde cioè tutti questi sono due questo e questo nel momento anche se siamo dentro lo stesso sprite nel momento in cui primerò la bandierina verde questi due blocchi di codice verranno eseguiti in parallelo quindi quando si clicca su bandierina attendi fino a quando sto toccando fortunatamente nel menu dei sensori abbiamo già un blocchetto già bello fatto già fatto da scratch che ci identifica l'impatto fra due sprite fra due personaggi ok andiamo a farlo sposto questo qui allora situazioni attendi fino a quando sto toccando 3-2 quindi blocchetto questo qui è una struttura di controllo quindi vado nel menu di controllo attendi fino a quando questi 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 azzurri sono i menu sono i blocchetti del menu sensori quindi vado qua sensori sto toccando che cosa 3-1 ora il nostro si chiamava in maniera diversa ma è la stessa cosa passa al costume quindi quando si clicca la bandierina attendi quindi comunque lui questo questo codice si ferma fino a che il gattino impatta finché il il gattino non impatta scusate con l'albero quindi nel momento in cui c'è l'impatto vengono eseguite queste altre tre righe cioè anzi queste altre due volevo dire passa al costume quindi cambia la sua immagine e verrà fuori l'immagine del gattino che cade della caduta e poi blocca viene bloccato tutto perché tanto abbiamo detto che si ferma la partita quindi passa al costume lo troviamo nel menu dell'aspetto passa al costume eccolo qui il secondo costume è questo fallen over ok e ferma tutto il ferma tutto è una lo troviamo nelle strutture di controllo se non ricordo male eccolo qua ok adesso c'è una cosa che subito ci quadra un po' meno perché vedete che se premo sul costume lui poi mi rimane così se premo la bandierina non mi ritorna con il costume precedente e questo poi ora vedremo come risolverlo più avanti ma se scelgo manualmente il costume di partenza riparte in questo modo fino a che il nostro sciatore non impatta con con un ostacolo lo vediamo eccolo lì ok ovviamente stagio quindi andiamo avanti col nostro tutorial allora andiamo giù salviamo salviamo il progetto salviamolo per per sicurezza salva sul tuo computer scelgo sostituire sì ok ok eccoci qui lancia il programma e vedi cosa succede lo abbiamo già fatto come volevamo quando lo sciatore viene colpito da un ostacolo cambia costume e la partita finisce ok c'è un problema come abbiamo già visto lo sciatore rimane con questo costume noi vogliamo che ritorni ad avere il costume precedente quello di partenza niente di grave ci basta aggiungere il blocco passa al costume all'inizio cioè che ogni volta che premiamo nuovamente la bandierina c'è un reset che riporta il costume a quello di partenza quindi inseriamo questo passa al costume qua aspetto passa al costume eccolo qui vediamo eccolo qua ora sta al giocatore ripeto imparare ad evitare gli ostacoli aiuto ecco ripartiamo vediamo vediamo quanto riesco a sopravvivere è poco ok vediamo con il nostro tutorial siamo quasi alla fine il punteggio ecco ci mancava il punteggio ovviamente è una variabile importante nei meccanismi di gioco nei sistemi di gioco dobbiamo aggiungere un punteggio un giocatore deve infatti guadagnare punti ogni volta che riesce a evitare un ostacolo e per prima cosa creiamo una nuova variabile punteggio che all'inizio sarà uguale a 0 ed è e viene resettata ogni volta che premiamo la bandierina verde come vedete qui e il punteggio dovrà aumentare di 1 quando lo sciatore riesce a evitare l'ostacolo ok questo lo vediamo dopo intanto creiamo la nostra variabile quindi un'altra bandierina ha messo un'altra sì un'altra bandierina la mettiamo qua giù creiamo una nuova variabile e la chiamiamo punteggio porta la variabile punteggio a 0 in questo modo poi il punteggio deve aumentare di 1 quando lo sciatore riesce a evitare l'ostacolo ossia quando scusate come vedete qui se premo partiamo e possiamo visualizzare il nostro punteggio qui in alto a sinistra e partiamo con 0 anche se sto evitando l'ostacolo quindi vediamo questo è evitato evitato vedete che il punteggio non sta aumentando perché non abbiamo ancora inserito un'istruzione una riga di codice che dica al punteggio appunto di fare più 1 ogni volta ok quindi è questo che dobbiamo aggiungere adesso deve aumentare di 1 quando lo sciatore riesce a evitare l'ostacolo ossia quando l'ostacolo raggiunge il bordo superiore dello schermo ok prova a giocare e vedi quanti punti riesci a realizzare e come si fa a cambiare il punteggio basta inserire questo blocchetto questa riga qui cambia punteggio di 1 in fondo al ciclo del nostro alberino perché ricordatevi che l'albero fa tutto durante ogni giro di questo codice praticamente scorre dal basso verso l'alto ok vedete da y-180 a 180 e attende un attimino perché il codice insomma venga non aggiornato troppo velocemente basta inserire il cambio di punteggio proprio alla fine cioè quando l'albero ha già percorso tutto il suo movimento sull'asse verticale andiamo qui scegliamo quindi lo sprite questo e come ultima riga inseriamo cambia punteggio di 1 cambia scelgo la variabile punteggio di 1 vediamo faccio partire il gioco eccolo qua vedete 3 4 e qui ci 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 fermiamo vedete che il punteggio si aggiorna un attimo dopo rispetto al superamento semplicemente perché il blocchetto il tutorial lo mette dopo l'attendi un secondo possiamo fare così e vediamo che cosa accade se lo mettiamo prima ripartiamo no sono subito morto ripartiamo 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 oh eccolo lì 1 superato 2 superato ecco ok insomma ci siamo capiti vedete adesso adesso il ponteggio si aggiorna immediatamente appena l'albero esce fuori dal dal nostro schermo appena finisce di compiere tutto il suo scivolamento tutto il suo movimento sull'asse sull'asse y ok io diciamo la video lezione finisce qui vi mostro nuovamente l'indirizzo dove potete trovare questo tutorial microninja.me slash risorse slash gara di sci il test di questo corso che è tutto che si occupa appunto della realizzazione di videogiochi con scratch questa è stata la nostra prima lezione il test sarà alla fine delle quattro lezioni quindi insomma direi che avete tutto il tempo di guardare questo video guardare i prossimi insomma e prepararvi poi per il test ed eventualmente richiedere il badge di questo corso ok ci vediamo tra un paio di settimane per la seconda lezione ciao a tutti